benvenuti e benvenuti a tutti ottica scaglioni di rivarolo mantovano via mazzini 44 b quindi se siete entrati vedete la nostra locandina l'abbiamo esposta un po in tutti i paesi della provincia di mantova il massimo della visione ecco qui abbiamo tutti i tipi di occhiali da vista e da soli delle migliori marche se anche non trovate immediatamente gli occhiali che voi ricercate magari che avete visto in qualche rivista o in televisione da qualche amico basta che ci dite l'occhiale che cercate e in giro di meno di una settimana vi forniamo esattamente l'occhiale che richiedete ottico studio ottico optometrico scaglioni massimo laboratorio ottico quindi abbiamo il laboratorio che ovviamente lavora le lenti che monta le lenti di ogni tipo di marca un tipo di materiale non ci sono assolutamente problemi quindi fattene richiesta chiedete pure ciò di cui avete bisogno esame della vista computerizzato quindi personalmente eseguo il controllo della vista con il computer e poi anche quel sistema tradizionale la cassetta di prova col col vari otto tipi poi controllo dell'udito siamo in collaborazione con la finissimo il collaboratore ovviamente il tecnico viene ovviamente in studio se chiamato su richiesta quindi potete benissimo quindi prendere appuntamento e verrà gratuitamente a fare il controllo dell'udito su appuntamento naturalmente e possibilmente il lunedì pomeriggio perché è il giorno appunto della chiusura del negozio per quanto riguarda gli occhiali da vista e da sole come abbiamo detto le marche principali ovviamente italiane sono armani poi abbiamo gucci dolce da bana molte missoni ecco molte firme anche rai ban come tale da sole e soprattutto l'esclusiva che abbiamo della della marca inglese dell'appunto jk london vista e sole noi naturalmente siamo in via mazzini 44b sotto il portico di via mazzini appena ovviamente si entra a rivarolo mantovano la via principale che porta prima della piazza è via mazzini venendo appunto da bozzolo e a rivarolo mantovano siamo sotto il portico di fronte alla pizzeria all'ospizio e i nostri numeri di telefono sono 036 95 81 72 036 95 81 72 anche fax cellulare 393 96 97 719 e siamo anche su skype quindi massimo punto scaglioni 1 volete contattarci anche via skype siamo disponibili tutta la settimana dal lunedì al sabato dalle ore 9 e 15 alle ore 12 e 30 al mattino e il pomeriggio dalle 16 alle 19 e 15 tutti i giorni è escluso il lunedì pomeriggio e il sabato pomeriggio tutti gli altri giorni siamo a vostra disposizione vi aspettiamo e vi auguriamo il massimo della vostra visione con studio ottico scaglioni massimo di rivarolo mantovano un cordiale saluto a tutti e alla prossima